Il ritorno dei dinosauri sulla Terra rappresenterebbe un evento di portata straordinaria, aprendo le porte a una nuova era scientifica e sollevando complessità etiche e sociali senza precedenti. Immaginando un futuro in cui la tecnologia avanzata ci permetta di clonare o manipolare geneticamente i dinosauri, ci troviamo di fronte a una serie di sfide e possibilità che plasmeranno radicalmente la nostra interazione con il mondo naturale. La chiave di volta di questo scenario sarebbe la comprensione e la ricostruzione del genoma dei dinosauri. La manipolazione genetica richiederebbe un'analisi dettagliata della struttura del DNA di queste creature estinte da milioni di anni. Questo compito, a prima vista, sembra monumentale a causa della lunga estinzione dei dinosauri e dei possibili danni o degradazioni al loro materiale genetico nel corso del tempo. Tuttavia, se la tecnologia avanzata ci offre gli strumenti per sintetizzare o ricostruire i genomi dei dinosauri, ciò rappresenterebbe un territorio scientifico senza precedenti. La clonazione si configurerebbe come il successivo capitolo di questa epopea scientifica. Gli ovuli di specie animali attuali potrebbero servire da ospiti per il materiale genetico dei dinosauri, dando vita a embrioni di dinosauri che dovrebbero poi essere gestiti attraverso fasi di sviluppo controllate in laboratorio. Questo processo delicato richiederebbe un'attenzione particolare e una competenza elevata, garantendo la sopravvivenza degli embrioni prima della loro reintroduzione nell'ambiente naturale. La reintroduzione dei dinosauri nell'ambiente attuale aprirebbe una serie di domande cruciali sulla loro capacità di adattamento. Il nostro pianeta è drasticamente cambiato dalla loro estinzione, con climi, paesaggi ed ecosistemi notevolmente differenti. La comunità scientifica sarebbe chiamata a studiare attentamente le dinamiche ecologiche coinvolte e a affrontare le sfide legate all'interazione dei dinosauri con le specie esistenti. La scienza avrebbe un ruolo fondamentale anche dopo la reintroduzione dei dinosauri. Studi approfonditi sull'ecologia dei dinosauri, sulla loro biologia e sulle interazioni con l'ambiente circostante sarebbero essenziali per prevedere e mitigare gli impatti negativi. La ricerca dovrebbe estendersi a programmi di monitoraggio a lungo termine, garantendo la sostenibilità della coesistenza tra dinosauri e altre forme di vita. La gestione sociale di una simile situazione sarebbe altrettanto complessa. L'introduzione dei dinosauri nella vita umana quotidiana potrebbe generare una combinazione di entusiasmo e preoccupazione. Se da un lato la prospettiva di interagire con creature così maestose potrebbe suscitare fascino e curiosità, dall'altro la preoccupazione per la sicurezza pubblica potrebbe emergere come una priorità. La creazione di parchi protetti, riserve speciali e l'implementazione di normative rigorose sarebbero essenziali per garantire la convivenza pacifica tra esseri umani e dinosauri. Da un punto di vista etico, la responsabilità umana nel, risvegliare, creature estinte da così tanto tempo dovrebbe essere ponderata attentamente. Dovremmo essere pronti ad affrontare le conseguenze delle nostre azioni e a garantire che la preservazione dell'equilibrio naturale degli ecosistemi sia una priorità irrinunciabile. Inoltre, sorgerebbero interrogativi etici fondamentali sulla creazione di creature che, per milioni di anni, sono state assenti dal nostro pianeta. Dovremmo considerare il benessere di queste creature risorte e garantire che le condizioni in cui vivono siano rispettose delle loro esigenze biologiche e comportamentali. In conclusione, il ritorno dei dinosauri sulla Terra rappresenterebbe un capitolo epocale nella storia dell'umanità. Mentre la fantasia ci guida attraverso scenari scientifici straordinari, è fondamentale mantenere un approccio ponderato, basato sulla scienza, sull'etica e sulla consapevolezza delle implicazioni a lungo termine. La ricerca scientifica, la gestione responsabile e la collaborazione internazionale diventano elementi chiave per garantire che l'introduzione dei dinosauri nella nostra realtà sia guidata dalla cura del nostro pianeta e dalla sua diversità biologica.